ma proprio a me mi era succedere e come faccio senza un braccio ci faccio pilota senza un braccio immaginiamo la bacia oi perché lei guarda Achille a me mi mancano braccio Achille ci mancano tutti e due braccio e cammini a ballo ma allora è contento no io ci ha domandato perché amico scusate io sto a scendere pazzo perché a me mi mancano braccio e mo levità a ballo appunto mancano due braccio e cammini a ballo ma che ballo caccia ma proprio il culo e non mi faccio trattare